Non sarà una scampagnata, però la tappa a Sassuolo, almeno sulla carta, rappresenta un ostacolo non certo difficile da superare per il Parma. Derby emiliano dai tanti sapori domani alle ore 15 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. La squadra nero-verde è ultima in classifica, ha subito 54 gol, è la terza difesa più battuta d'Europa, ha cambiato tanto nel mercato di gennaio e finora ha dato dimostrazione di essere in confusione totale. Sarebbe dunque davvero clamoroso se il Parma in serie positiva da quattro mesi ressuscitasse all'improvviso un avversario così messo male. Donadoni non ha problemi di formazione, l'unico dubbio sembra essere a centrocampo con il ballottaggio Marchionni-Aqua. Il primo non sta attraversando un gran periodo di forma e potrebbe riposare. In difesa a sinistra possibile la conferma di Molinaro, quasi certa quella di Amauri in attacco. Attenzione ai cartellini gialli, Palette e Parolo sono diffidati e rischiano di saltare quella sorta di spareggio per l'Europa Liga in programma contro il Verona al Tardini il turno successivo. In casa nero-verde Malesani rischia l'esonero anche in caso di pareggio. Tra i freschi ex in campo, dal primo minuto, Mendes e Rosi, mentre Sansone potrebbe trovare spazio solo nella ripresa. Tornando al Parma, a confermare il Magic Moment, ci sono anche le indiscrezioni che arrivano dall'ambiente nazionale. Prandelli domani sera convocherà quasi certamente il trio crociato, Mirante, Parolo e Paletta, per il test amichevole di mercoledì contro la Spagna. Della partita di Reggio Emilia e delle convocazioni azzurre si discuterà lunedì sera, tra gli altri argomenti, sulla nostra Teleeducato, nella ventisettesima puntata di Calcio e Calcio, in onda, come sempre, in diretta, alle ore 21. Grazie. Grazie.